Un fucile a doppia canna da caccia e questa la tipologia di arma che ha fatto fuoco contro Antonio Bevilacqua trapassandogli il volto e causandone la morte sul colpo. Il responso dell'anatomo patologo Giuseppe Sciarra è arrivato a seguito dell'autopsia eseguita nell'ospedale di Chieti durata quasi 5 ore dalle 13 alle 17. L'esame del medico legale che parla di un unico colpo esploso dal classico bossolo a pallini usato per la caccia sembra avvalorare la pista del diverbio finito in tragedia sulla quale già da questa mattina si stavano muovendo i carabinieri della compagnia di Montesilvano e il nucleo investigativo di Pescara coordinati dal sostituto procuratore Paolo Pompa. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori tra il 21enne di etnia Rom e il suo assassino ci sarebbe stato un diverbio proprio all'interno del pub Braceria Birrami di Via Verrotti a Montesilvano teatro del delitto dunque si tratterebbe di un fatto estemporaneo e non ci sarebbe premeditazione o organizzazione del delitto come aveva detto al nostro microfono il colonnello riscaldati comandante provinciale dei carabinieri di Pescara. Dai primi accertamenti a dei primi elementi che sono stati raccolti non si tratta comunque di un fatto organizzato. Stiamo analizzando non solo le telecamere del piazzale e comunque di quelle d'intorno anche al luogo dove è avvenuto il delitto ma anche tutte quelle che possono essere le vie, le strade che ipotizziamo possa l'assassino aver percorso nel suo itinerario di fuga. Comunque quello del Birrami è stato un agguato in piena regola se si segue il racconto dei testimoni oculari. L'assassino entra nel pub travisato da un passamontagna con calma e sangue freddo fa girare la sua vittima che sedeva al bancone e parlava con il proprietario del locale poi le spara un colpo al volto. Modalità la criminalità organizzata con la fuga a piedi del killer ripreso dalle telecamere di sorveglianza e visto dagli occhi impauriti di una dozzina di avventori del pub. Per questo resta in piedi anche l'ipotesi che sia stato un regolamento di conti all'interno della criminalità locale. Bevi l'acqua infatti aveva precedenti ed era noto alle forze dell'ordine. Ora scatta la caccia all'uomo che potrebbe vivere non lontano da Montesilvano. Decisive saranno proprio le telecamere di videosorveglianza del Birrami, della vicina sala giochi e della tabaccheria. Fotogrammi che dovranno essere incrociati con le informazioni prese dai racconti dei testimoni ascoltati mattinate e nella giornata odierna nella vicina caserma dei Carabinieri.